non è chiusa allora quale che non è la prima non è la prima casetta allora ragazzi veloci veloci uno che copre un piano che sali le scale dentro no a nord fra non a sud a nord ma non è la prima casa che verso la nostra base la seconda verso camera insomma no verso camera ma quale uno con uno zeno nero è entrato qua dentro e un altro era già dentro uno che mi guarda la porta d'ingresso forse ho capito io sono accovacciato io o non mi sparare sono accovacciato qualcuno di voi è entrato in una casa ora ah ho capito che casa è che casa è oh dietro la casa gialla dietro la casa gialla fra l'S valle è troppo forte i rossi hanno un'altra base là al sud o qualcosa che non lo so bisogna inseguirli no però sto pensando zitto 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 c'è qualcuno qua zitto 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 in all'elfide veloce 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 c'è qualcuno qua mi è passato uno di davanti sì ciao zitto 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 dov'è 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 minchia l'ho perso raga vi giuro no 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 no